La Chiesa è in crisi come mai prima d'ora. Chi dovrebbe guidarci tace, i vescovi restano immobili e un dubbio spaventoso si insinua tra i fedeli. E se il Papa non fosse legittimo? E se i cardinali stessero tradendo il loro stesso ruolo? Oggi affrontiamo verità scomode che potrebbero scuotere le fondamenta della fede cattolica. Guarda fino alla fine, non sarà facile, ma è necessario. Molti di noi, osservatori e fedeli, si chiedono spesso dove sono i vescovi migliori? Dove sono i cardinali pronti a difendere con coraggio la fede? La nostra riflessione, di frequente, è rivolta proprio a quei leader della Chiesa che sembrano essersi ritirati nel silenzio o che si limitano a parlare solo di speranza e fede, senza affrontare apertamente i problemi attuali. Talvolta partecipano a conferenze o cerimonie per insegnare la dottrina, facendo qualche critica velata su ciò che non va, ma raramente prendono posizioni dirette e decise. Questo è particolarmente evidente dopo la cancellazione del vescovo Strickland e le difficoltà di figure come il cardinale Burke, che ha addirittura visto minacciato il proprio alloggio a Roma. C'è la percezione che molti vescovi abbiano paura. Papa Francesco, infatti, sembra usare il proprio potere per fermare chi si esprime in modo critico. Nel frattempo, il recente sinodo si è concluso con quello che molti hanno interpretato come un'apertura a posizioni eretiche, con affermazioni che mettono in discussione persino i fondamenti della fede. Papa Francesco, anziché scoraggiare questi discorsi, sembra incoraggiarli, sottolineando che il sinodo è una piattaforma per dialogo e confronto, evitando qualsiasi giudizio. Ma sembra che chi cerca di difendere la tradizione venga respinto. Questo ci porta ancora una volta a chiederci, dove sono i vescovi? Gli atti e le parole di Papa Francesco hanno alimentato diversi dibattiti tra i fedeli, e alcuni esperti di teologia e diritto canonico. Molti osservano una crescente tolleranza verso idee che alcuni ritengono contrarie alla tradizione della Chiesa, e questo ha generato ipotesi secondo cui il Papa potrebbe non essere legittimo. Alcuni sostengono che la rinuncia di Papa Benedetto XII non sia stata valida e che, di conseguenza, Francesco non sarebbe il vero Papa. In effetti, c'è chi considera questo un problema serio che necessita di risposte ufficiali e chiarimenti definitivi da parte dei cardinali e degli esperti di diritto canonico della Chiesa. Il mancato intervento diretto dei cardinali, secondo queste persone, rappresenta una mancanza di dovere nell'affrontare le preoccupazioni dei fedeli, creando una situazione di dubbio che potrebbe indebolire ulteriormente l'unità della Chiesa. Gli esperti e i fedeli che condividono questo punto di vista si chiedono quindi se i cardinali siano colpevoli di non aver difeso il corpo mistico di Cristo da un potenziale nemico interno. Nel dibattito sulla legittimità del papato di Francesco è stata avanzata una proposta Convocare un concilio imperfetto Questo tipo di consiglio, secondo alcuni esperti di diritto canonico, permetterebbe ai cardinali di riunirsi per discutere in modo definitivo la validità della rinuncia di Benedetto XVI e le possibili implicazioni per la legittimità del successore. Un simile concilio, in passato, è stato proposto in situazioni di grave incertezza per chiarire chi fosse il vero pontefice e ristabilire l'ordine e la chiarezza all'interno della Chiesa. Secondo il diritto canonico, infatti, i cardinali potrebbero riunirsi per valutare se ci siano elementi validi per considerare nulla l'elezione di Francesco, soprattutto se vi sono sospetti di violazione delle norme stabilite per il conclave da Giovanni Paolo Secomando. Questo include norme specifiche su accordi, promesse e influenze che possono influenzare le elezioni papali e che, se violate, potrebbero portare addirittura all'automatica scomunica dei cardinali coinvolti. Oltre alla questione della legittimità papale, emerge una critica più ampia verso il clero, in particolare verso i cardinali e vescovi che, pur riconoscendo le preoccupazioni di molti fedeli, sembrano evitare di intervenire attivamente. Alcuni fedeli e studiosi sostengono che questa mancanza di azione sia una vera e propria negligenza del dovere, un fallimento nel proteggere le anime dei fedeli da possibili errori o confusione dottrinale. E in una visione cattolica, una tale inazione potrebbe mettere in pericolo anche le anime dei cardinali stessi. Figure come il cardinale Burke e altri cardinali tradizionalisti sono spesso visti come punti di riferimento, ma il loro approccio si limita a lettere e dichiarazioni generali, senza azioni concrete che possano offrire una guida sicura. Alcuni sostenitori di un concilio imperfetto o di una presa di posizione più incisiva chiedono proprio questo, che i cardinali si uniscano per rispondere in modo chiaro e autorevole, mostrando con i fatti la loro responsabilità pastorale. Alcuni autorevoli esponenti del mondo cattolico, tre a cui avvocati canonisti e teologi di rilievo, suggeriscono che il momento per i cardinali di intervenire sia arrivato. Essi sostengono che i cardinali non possano continuare a limitarsi a messaggi scritti o discorsi indirizzati a cerchie ristrette. È necessario, invece, un confronto aperto che metta al centro la questione della fede e della dottrina, anche a costo di esporsi a rischi personali. Una delle frasi simboliche di questa richiesta di azione è quella del vescovo René Gracida, che sostiene che «la semplice denuncia delle eresie di Francesco non cambia nulla, serve azione». Questo pensiero riflette la pressione che alcuni fedeli e studiosi vorrebbero esercitare sui cardinali affinché essi agiscano in difesa della fede, anche sollecitandoli a considerare la possibilità di un concilio imperfetto o di altre misure concrete per verificare e correggere eventuali errori. In questo contesto, i cardinali sono chiamati a dimostrare il loro impegno e la loro fedeltà alla missione pastorale della Chiesa, affinché il dialogo non si limiti alle parole, ma si trasformi in azioni tangibili a protezione della dottrina e dei fedeli. Mentre la pressione sui cardinali e sui vescovi cresce, anche i fedeli stanno assumendo un ruolo sempre più attivo, chiedendo chiarezza e verità. Molti cattolici tradizionalisti, sostenuti da intellettuali e leader spirituali, invitano il clero a prendere posizione e suggeriscono ai laici di fare pressione affinché i loro leader ecclesiastici rispondano con trasparenza e fermezza. In questa visione è compito non solo dei cardinali, ma anche dei fedeli comuni sostenere una Chiesa fedele alle sue radici. Per i fedeli, quindi, la chiamata all'azione si manifesta non solo nelle preghiere, ma anche in un impegno concreto, scrivere ai propri vescovi, sostenere le iniziative di chiarezza dottrinale e, se necessario, esprimere il proprio dissenso verso atteggiamenti considerati ambigui o troppo tolleranti nei confronti di posizioni considerate eretiche. La comunità dei fedeli, in tal modo, non agisce solo come spettatrice, ma come una voce attiva della Chiesa, unita nel custodire e difendere la tradizione. Sarebbe un vero esempio di Chiesa sinodale. In questo contesto di incertezza e richieste di intervento, la preghiera diventa una delle risposte più potenti per molti fedeli. Di fronte alle divisioni e alle preoccupazioni dottrinali, pregare per l'unità e la forza della Chiesa diventa fondamentale. Si fa appello a ogni fedele perché, oltre a chiedere chiarezza e azione ai leader ecclesiastici, resti saldo nella fede e unito spiritualmente alla Chiesa. Pregare per i cardinali, per i vescovi e persino per Papa Francesco è visto come un modo di chiedere, in umiltà, che la volontà di Dio si realizzi attraverso i Suoi rappresentanti. Molti movimenti e gruppi laici si stanno unendo per creare catene di preghiera e momenti di adorazione, riconoscendo che qualsiasi cambiamento reale può venire solo da un'ispirazione che parte dal cuore della Chiesa e dalla grazia divina. In ultima analisi, questa situazione complessa chiama sia i leader ecclesiastici che i fedeli a un percorso comune di riflessione, azione e discernimento. L'appello alla verità e alla chiarezza non si rivolge solo ai cardinali e ai vescovi, ma a tutta la comunità cattolica invitata a vigilare sulla fede con impegno e responsabilità. Cosa ne pensi? Se ti è piaciuto il video, commenta Amen! Che Dio ti benedica!